Siamo al quartiere Tamburi. Alle mie spalle quella che era la facoltà di scienze infernieristiche, ora completamente abbandonata, degradata, vandalizzata. Scusate, ma Taranto purtroppo è la capitale dei tumori e non è possibile che una struttura che serviva a formare le nuove leve in ambito sanitario sia così abbandonata. Per quanto riguarda le loro competenze, comune, provincia, regione, cosa hanno fatto, cosa fanno per invertire la rotta? Nulla. Idem dicasi i nostri parlamentari, a maggior ragione e peggio ancora il nostro governo, ma secondo voi è normale una cosa del genere? Una facoltà universitaria abbandonata, una Taranto che ha bisogno di cultura, una Taranto che ha bisogno di medicina e di studi di medicina? Ecco cosa c'è. Signori, queste sono le persone che ci hanno governato, i partiti che ci hanno governato e ci governano. Vogliamo che tutta Taranto ormai è diventata uno scempio totale, diventi come questa struttura? Continuate a votare e questi sono i risultati. Grazie a tutti.